Vi presento oggi Rx EcoForce, il battitappeto professionale per eccellenza. Rx EcoForce ha una nuova linea, un nuovo design, nuova maniglia, molto bello, la distribuzione dell'aria in uscita è molto diffusa, quindi non è su un punto solo, molto silenzioso e fa parte di una linea di tre misure, 380, 450 e 500 mm, 500 mm è la base più larga nel mercato, i nostri concorrenti arrivano a 450 e a 460, abbiamo un sistema di regolazione in altezza gestito da un controllo elettronico che ci dice qual è la corretta regolazione in altezza, abbiamo dei cilindresi che permettono di scorrere agevolmente a filo duro, un cambio rapido del rullo senza bisogno di utensili e supporti in metallo con cuscinetti a sfere. Da parte sotto, come vediamo, abbiamo due piastre in acciaio inox e dei traversini sempre in del mercato inox per rendere la base estremamente robusta e affidabile. La regolazione è fatta con quattro ruote e le due centrali sono regolabili in altezza. Abbiamo un sistema filtrante anche per la base, con questo filtro andiamo a filtrare anche l'aria in entrata e in uscita del motore della spazzola. È possibile smontare la parte aspirante dalla base scollegando e sollevando, quindi quando in caso di istruzione andiamo a verificare cosa è successo e quindi è molto facile accedere alla zona del rullo. Come vedete la macchina ha due supporti, uno centrale e uno centrale in modo da rendere molto robusta la struttura, il collegamento. Per fiacciare il cavo premiamo il cussatino, l'impugnatura è telescopica e ha due posizioni di lavoro, per le persone più basse e più alte. Ascensione. I don't want to passano. . L'impugnatura è realizzata, basso una cosa visualizzata. L'impugnatura è realizzata. Un'altra cosa realizzata è ridotta. Il cino l'è questo, il centrale è realizzata. corretto sistema di sgancio dello snodo errato sistema di sgancio ma la macchina non si rompe sostituzione del sacco filtro sgancio leva di sicurezza filtro protezione motore infiliamo il sacco filtro lo agganciamo e la macchina è pronta per lavoro sostituzione micro filtro uscita aria sganciamo e abbiamo il micro filtro per rimontarlo posizioniamo mettiamo la nostra griglia lo agganciamo e chiudiamo in tela lavabile sganciamo il sacco filtro in carta standard e possiamo mettere il filtro lo scalciamo lo apriamo e il filtro può essere svuotato sostituzione sostituzione del filtro protezione motore con un filtro opzionale togliamo il sacco filtro togliamo il filtro lavabile e mettiamo un filtro carboni attivi microfiltri lo inseriamo nella stessa sede e la macchina è pronta il microfiltro uscita aria può essere sostituito con dei filtri con prestazioni superiori ad esempio il filtro epa per ambienti sanitari si infila nella stessa sede si accalcia nello stesso modo si mette la griglia e la macchina ottiene un filtraggio del 99-96% a 0,3 micro abbiamo anche un altro filtro opzionale che è una cassetta con carboni attivi e microfiltro per ambienti tipo ristoranti ambienti molto odorosi grazie alla sigillatura di tutto il corpo aspirante la macchina può essere dotata anche di un sistema di soffiatura questo è un convogliatore per poter mettere il tubo in soffiatura quindi la macchina in questo modo soffia diventa un compressore utilizzando due tubi uno in aspirazione e uno in uscita la macchina può soffiare ed aspirare contemporaneamente l'impugnatura ergonomica con prototipo e la mutazione della mano